ovviamente nel nuovi subsole anche in questo caso la narrativa che riporta quanto accaduto ieri a napoli è unanimemente di condanna come sempre accade giornali telegiornali e radio allineate nel demonizzare addirittura come camorrista chissà poi perché una protesta di piazza quella di napoli in cui i cittadini sono scesi in strada per opporsi al nuovo regime sanitario con i suoi lockdown e i coprifuoco ebbene questa protesta che appunto nasce dal popolo nasce da una contestazione di questa nuova forma di regime è stata ovviamente demonizzata a reti unificate addirittura si parlava da più parti di infiltrazioni camorriste per delegittimare in toto la protesta e addirittura per lasciar trapelare nemmeno troppo tra le righe che dovesse intervenire o dovrà in futuro intervenire l'esercito per reprimere queste azioni di manifestazione di opposizione al regime terapeutico prepariamoci l'esercito è già in strada l'hanno schierato per difenderci da quelli che non indossano le mascherine si era detto in realtà abbiamo capito che servirà a reprimere manifestazioni come quella di napoli di ieri e intanto c'è anche chi si spinge tra le righe ma nemmeno troppo a invocare la violenza un certo antonello de pierro che personalmente non conoscevo fino a prima di questo eroico tra virgolette cinguettio nella rete leggiamo che questo questo antonello de pierro è giornalista presidente del movimento politico nazionale italia dei diritti meno male che si occupa di diritti e sulla sua pagina twitter così ha cinguettato leggo a napoli si sta tentando a sicurezza di cittadini manifestazione mi pare sia abusiva e violenta e terrorismo sono democratico ma meno male aggiungiamo noi ma per prima volta in mia vita da amministratore pubblico con tre cariche elettive se fossi di mia competenza darei ordine di sparare ripeto se fosse di mia competenza darei ordine di sparare così sulla pagina di antonello de pierro su internet darei ordine di sparare credo che naturalmente un caso per ora isolato questo però è indicativo dello spirito del tempo dell'aria che si sta respirando prepariamoci perché sarà molto dura nelle prossime settimane grazie a tutti Grazie a tutti